E ora spostiamoci in un laboratorio di ultimissima generazione con strumenti di ogni tipo, all'avanguardia e molto sofisticati, per un esame molto più specializzato. Prima cosa che proviamo, coltellino svizzero, una garanzia. Proviamo con la lama. E adesso proviamo con questo, che non so cos'è, ma è ben appuntito, sarà ad aprire scattere d'alluminio. Nulla, passiamo a qualcosa di più. Una lama nuova, ma in Italia che sia molto affilata. E vediamo. Cosa succede? Nessun graffi. Proviamo con qualcosa di più duro, allora, vediamo cosa possiamo fare. Un cacciavite. Un pappagallo. Un cacciavite. Un cacciavite. Un cacciavite. Grazie a tutti.